Il mio principale ha acquistato il terreno attorno al vostro cottage ed è qui che la casa verrà costruita. Diventerete proprietari della terra, così come della tenuta, al suo completamento. C'è solo una condizione. La vostra famiglia dovrà liberare questo immobile e stabilirsi nella casa. E questo è quanto? L'architetto non chiede nulla in cambio? Il denaro non interessa al mio principale, signora. Lui è un grande artista. Non desidera nient'altro che l'appagamento creativo. Questo Van Schoenbeek era un amico di mio padre. Dice che saremo l'invidia del circondario nel raggio di chilometri. Per noi è come una luce in fondo al puio, Penny. Purtroppo il signor Van Schoenbeek è un uomo piuttosto impaziente. Pertanto ci servirebbe la vostra autorizzazione oggi. Sì, prego. Ciao. Grazie.